Orison 2020 pone un'enfasi sempre più pressante sul concetto di innovazione, quindi continua a finanziare le attività e progetti di ricerca, ricerca di base e sviluppo, ma tiene conto della necessità di produrre e concretizzare questa ricerca in prodotti, risultati, servizi, innovazioni di processo, anche business model innovativi, che quindi in tempi brevissimi dalla fine del progetto devono essere sfruttati e acquistati da utenti finali, utilizzatori, pubbliche amministrazioni, PMI, cittadini e così via. E' chiaro quindi che soprattutto nelle cosiddette azioni che si avvicinano al mercato, quindi nuovi strumenti di finanziamento, nuovi progetti di Orison 2020, SMI, strumento piccolo e media imprese e fast track innovation in primis, la logica tipica di un business plan è stata ripresa all'interno dei template, dei modelli di domanda, di proposta, soprattutto in alcune parti, ma comunque diciamo che il piano industriale è parte di questa proposta, è la parte più importante.